il computer della signora questo è un'informazione per questo S20F è caduto e si sono rotte tutte le fotocamere sia il vetrino l'ho staccato perché era tagliente sia le fotocamere perché è caduta tutta la sabbia ora c'è la sabbia dentro e dentro le foto non vengono tutte effrime S20F S20F andiamo a un pezzo qua facciamo che ho messo l'antivirus già per un anno sopra che ho messo Chrome e può fare tutto quando andate a casa lo dovete collegare con il wifi allora questo con il vetrino che è rotto si deve cambiare tutto il pannellino di dietro che colore hai? menta non va in linea un anno allora questo qui cerco originale il pannellino di dietro posta 45 originale quindi diva anche questa foto oppure si potrebbe cambiare anche sulle vetrini delle fotococole però non sono originale e viene applicato col biadesico e viene applicato col biadesico ma non sono originale si deve comprare il pezzo davanti questo mi dovrebbe capitare uno di secondo manù e ci sono le condizioni e ci sono le condizioni e ci sono le condizioni potete sapere e il papà si fa un anno niente qual è la tiglia, un'llavourede era più è un modello più bello questo è un modello questo è nel 2022 è un modello più piccolo tutto quello che ha fatto è un modello di pieno se il livello è più piccolo è un modello di pieno può essere più piccolo è più piccolo e questo adesso è più piccolo ecco Sì, sì, l'abbiamo fatto insomma, non si è diventato male, 36, 35, io non mi chiamassi, 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 però non mi chiamassi, non si, non si, ci stai 28 arrivare, allora qui lo vai a dormire, e se già è terpeso, ok, magari su, vado a dormire, 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 Grazie, buon Natale, ciao ciao!